Dottore, come faccio a capire se sono pronto o pronta ad una relazione? Se sono pronto o pronta ad aprirmi all'altro? Allora, non è una domanda semplice e non lo è nemmeno la risposta. E siccome vorrei evitare tutte quelle cose pseudo-zen barra filosofiche, apriti al mondo, che il mondo si apre a te e via discorrendo, provo a scomporre alcuni elementi del nostro comportamento, della nostra personalità, del nostro modo di vivere e leggere il mondo che abitiamo per provare a rispondere. E provo a farlo per punti, così da evitare di perdermi nelle pieghe della riflessione, del pensiero e del linguaggio. Ho individuato cinque punti che secondo me sono abbastanza rappresentativi ed esaustivi della domanda e della risposta. Sono pronto o sono pronta ad aprirmi ad una relazione? Come faccio a capire? Punto numero uno, emozioni e desideri. Partiamo da qui, perché sembra una cosa apparentemente semplice, ma non lo è. È scontato che per aprirsi ad una relazione, trovare un partner, lo si debba volere. Ma è estremamente difficile capire effettivamente se lo vogliamo e come farlo capire agli altri, come in qualche modo renderci disponibili, appetibili, interessanti per qualcuno. E per rispondere a questa domanda dobbiamo partire dal guardarci dentro, ossia provare a chiederci bene. Inizio a trovare delle persone interessanti, inizio ad avere dei pensieri, delle fantasie sul poter avere qualcuno accanto. c'è quel tratto di quella persona che in un qualche modo mi solletica un interesse diverso. Magari quella non è la persona che fa per me, magari quella persona per me non è attraente, però già mi dico, ok, questa è una caratteristica che è per me importante, che nel mio partner vorrei trovare. Questo ci permette di capire che in un qualche modo stiamo fantasticando, stiamo proiettando la nostra immaginazione, la nostra fantasia, il nostro pensiero sul combinarci con qualcuno, sull'incastrarci o con qualcuno. Cioè iniziamo a chiederci come le nostre caratteristiche potrebbero entrare in risonanza con le caratteristiche dell'altro. Disponibilità, ovvero ho un'organizzazione di vita che preveda che io possa vivere la relazione, che possa impegnarmi in una relazione, che possa costruire e progettare qualcosa con qualcuno? Perché quello che solitamente vedo è che se da un lato c'è la volontà, quindi magari il punto 1 è soddisfatto, il punto 2 è soddisfatto solo sulla teoria, sulla carta, non nella pratica. Ad esempio se lavoro dalle 8 del mattino a mezzanotte perché sono un carrierista e voglio assolutamente fare carriera e il mio obiettivo è solamente quello, da un lato posso dire sì, voglio una relazione, sì sono pronto ad una relazione, però devo essere anche pronto a fare dei sacrifici, a organizzare il mio tempo, a cambiare la mia quotidianità e la mia agenda in funzione da liberare lo spazio. Sì, ma poi quando arriverà la relazione sicuramente mi organizzerò oppure il mio partner o la mia partner dovrà capire inevitabilmente e che per me questo comporta sì, ma una relazione la devi avere, cioè nel senso che devi avere il tempo fisico per poter vivere una relazione. Ci sono tante persone, questo lo vedo anche in coppie, no? Magari una coppia ha organizzato bene il tempo, ad esempio hanno deciso che ci sono dei momenti specifici in cui vedersi, lui, facciamo un esempio, e via spesso per lavoro, rincasa solamente il weekend, lei fa dei viaggi di lavoro ma non sono impegnativi come i suoi, comunque il weekend è il loro momento. Questa cosa avviene anche se magari sei a casa tra tante coppie. Bene, l'arrivo di un figlio, però se si vogliamo un figlio cambia tutto, cambia tutto perché poi ovviamente iniziano le fatiche enormi per cui magari lei si deve prendere maggiormente carico del figlio, lui torna a casa e fa il papà splendido ma solamente due giorni alla settimana, manca proprio un tempo oggettivo di condivisione, di costruzione della relazione, un tempo per poter coltivare l'emotività, per poter coltivare la sintonia e progettare il futuro. Punto numero tre fondamentale, autonomia, ovvero sono capace e sono convinto di essere capace di star bene anche senza una relazione, cioè di essere autonomo, indipendente, so starmene in piedi sulle mie gambe o necessito di qualcuno per poter stare in piedi, necessito di qualcuno a cui appoggiarmi per sentirmi completo. Questo è un altro fattore importante, perché se la risposta è la due, cioè necessito di qualcuno, perché questo qualcuno deve necessariamente completarmi, perché io da solo non riesco, non sono in grado, allora forse più che cercare una relazione dobbiamo cercare di capire noi stessi e avendo capito noi stessi poi muoverci verso l'apertura ad una relazione. Anche questo sembra scontato, ma non lo è. Ci sono un sacco di persone che magari in una relazione si sentono capaci, si sentono appagati, ma si sentono completamente incapaci di poter stare con loro stessi o di essere autonomi, quindi al di fuori della relazione. Essere autonomi, quindi renderci capaci, renderci adulti, è un qualcosa di fondamentale per poter vivere a pieno poi la relazione sentimentale. Punto numero 4, passato e apprendimenti. Questa è una cosa importantissima, ovvero, cosa ho capito dal mio passato, del mio passato, dalle mie relazioni precedenti, delle mie relazioni precedenti, che mi permettono ora, oggi, di sentirmi pronto o pronta a vivere nuovamente una relazione e a viverla al meglio, ovvero, conscio di quali sono gli errori che non devo più commettere, di quali sono le caratteristiche che sto cercando nell'altro, cioè, molte volte, si scappa da una relazione o si interrompe una relazione e ci si butta immediatamente in un'altra, senza il tempo di poter capire che cosa questa relazione ci ha insegnato. E' vero che, sbagliando, si impara, se si dice, c'è questo detto, ma è ancora più giusto dire, imparando si impara, cioè, io posso commettere un errore, posso vivere una delusione, posso magari essere dispiaciuto, dispiaciuta, soffrire per la fine di una relazione o perché magari quella relazione non si è rivelata ciò che io desideravo. Bene, però quanto tempo poi spendo per capire che cosa questa relazione mi ha insegnato? Perché passare subito da un'altra relazione o non mettere a frutto ciò che la relazione precedente, quella interrotta, mi ha insegnato è un grave rischio che faccio correre alla relazione successiva, alla relazione futura, alla quale invece mi sento pronto ad aprire. Punto numero 5, comunicazione e connessione, ovvero, mi sento capace di far capire all'altro i miei desideri, i miei pensieri, ciò che sento, ciò che provo, voglio all'altro mostrarmi, perché molte persone dicono io sono pronto alla relazione, sono, mi sento capace, anzi, sono proprio alla ricerca di qualcuno, bene, ma è questo qualcuno che ti vede in qualche modo stanare, scovare, tirare fuori per le orecchie dal buco in cui ti sei rintanato, o tu sei pronto a farti conoscere, a iniziare a mostrare una parte di te, ovviamente non è che uno può raccontare tutto subito, però sei pronto a aprirti, cioè a farti conoscere, a spendere del tempo di tua iniziativa per provare a far capire all'altro chi sei, perché anche in questo caso molte relazioni iniziano perché qualcuno insiste, qualcuno piano piano si concede, si fa scoprire, piano piano, ok, però che segnali do all'altro, che cosa sono disposto a comunicare di me, che parte di me voglio far vedere quale penso possa essere la parte che in questo momento della vita mi rappresenta e che quindi è per me importante mostrare all'altro. Ora, come ho detto all'inizio del video, potremmo probabilmente parlare tantissimo, aprire tutta un'altra serie di argomenti, da qui, da questo elenco, poi si aprirebbero altre riflessioni, però questo è un piccolo spaccato che vuole evitare il pensiero zen, quello necessariamente positivo o anche un po' fatalista, ma provare a ragionare un po' più su qualcosa di concreto, di pratico, che poi ci troviamo a vivere, no? Nella vita di tutti i giorni, nel senso che questi elementi, queste aree della nostra vita sono presenti di fatto in qualunque ambito di interesse, anche il lavoro o le relazioni familiari, quelle amicali, eccetera. Fammi sapere cosa ne pensi, scrivelo nei commenti, dimmi se qualcosa ti è stato utile o se hai scoperto qualcos'altro, cioè cosa è stato utile per te, ad esempio nel riaprirti ad una relazione o per capire se eri pronto o pronta ad iniziare una nuova relazione e ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti il suo aggiornamento. A presto!